ciao a tutti e benvenuti sul mio canale io sono stefania in questo video vi mostro come realizzare dei profiterol senza lattosio farciti con crema di latte e ricoperti con cioccolato fondente fuso per questa preparazione occorrono 2 confezioni di bini e grandi un litro di latte delatto salto 8 cucchiai di zucchero semolato 3 cucchiai di maizena 4 cucchiai di farina non colmi 400 grammi di cioccolato da fondere al fondente per prima cosa preparo la crema di latte in una pentola verso gli ingredienti secchi mescolo tra loro e pian piano aggiungo il latte mescolando in continuazione per non far creare grumi grazie a tutti ora che gli ingredienti ci sono tutti lascio cuocere a fuoco basso continuando a mescolare fino a quando la crema non sarà ben densa a fine cottura mentre la crema è ancora calda la rendo ancora più liscia con il frullatore di immersione copro con la pellicola a contatto e lascio raffreddare ben bene ho diviso a metà i bini ed ora che la crema è fredda posso farcirli in alternativa si possono fare dei fori nella parte inferiore dei bini e si possono riempire con la sac à poche li dispongo su un vassoio e li ricopro con il cioccolato puro stratificando fino a creare una vera e propria piramide volendo si possono anche immaggere completamente nel cioccolato e Grazie a tutti. Il mio video termina qui, spero che la ricetta vi sia piaciuta, provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel mi piace al video, continuate a seguirmi sui canali social, vi lascio i link giù nell'info box come al solito e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Ciao ciao, alla prossima! Grazie a tutti.